La Sicilia deve smetterla di accontentarsi, giocare al ribasso, accettare qualsiasi cosa senza un sussulto di dignità. Ho scelto la Lega perché sa cosa chiedere e sa come ottenerlo e governa le regioni più virtuose d'Italia da tanti anni in maniera efficiente ed efficace. E quanto afferma in una nota Nino Minardo, deputato leghista alla Camera, apprezzo la buona volontà del Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Giancarlo Cancelleri che propone altri milioni di euro da unire ai 15 rimasti dal mio emendamento di quattro anni fa perché i siciliani paghino i biglietti aerei a prezzi scontati e comunque congrui. In mezzo però pare ci siano troppi se bisogna riuscire ad evitare la normativa europea che continua a Minardo, a mio modesto avviso, è piuttosto complicato su una materia di competenza esclusiva il sé di un emendamento a cui dovranno seguire decreti ministeriali arrivando con grande probabilità alle calende greche e facendo finire tutto nel nulla. E poi perché solo da e per gli aeroporti di Catania e Palermo e solo per determinate categorie a cui va data ovviamente priorità, svuotando il significato della continuità territoriale che privilegia i riscali in via di sviluppo come Comiso e Trapani. Il Vice Ministro Cancelleri sa bene che alla comunità europea fanno le pulci su tutto, numeri alla mano e dubito che potrebbero autorizzare la continuità territoriale a Fontana Rossa e Punta Rai, aeroporti già oltre i limiti di capienza. Superate queste mie perplessità, conclude il deputato leghista, dovremmo poi porre fine all'immobilismo di questa regione che dopo quattro anni non ha saputo spendere i fondi già stanziati per questo fine. Il nostro territorio merita efficienza e pretende crescita e sviluppo, non assistenza ed elemosina.